Ehi le turma! Brevissimo, brevissimo, brevissimo avviso. Allora, come risultato dal sondaggio, sembra che il giorno più quotato sia per ora mercoledì. Quindi resteremo sull'idea di mercoledì, metterò un ulteriore sondaggio in questo video, sempre con le stesse modalità dello scorso sondaggio, in cui ci sarà la possibilità di scegliere l'orario. Ho visto che già varia gente si è unita al canale su Discord, se per caso doveste avere problemi scrivete qui sotto nei commenti, il link lo lascio nel video vecchio, in descrizione. Potete trovare degli altri aggiornamenti sul canale Telegram e niente, farò poi un ulteriore video finale per gli ultimi aggiornamenti. Entro a questo punto mercoledì prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!